Bianca Balti Bianca Balti, pelle total black per il suo look per la PFW Una passeggiata carica di charme quella di Bianca Balti per le strade di Parigi, con un look total black caratterizzato da stoffa in pelle su tutta la splendida silhouette La supermodella italiana non poteva perdersi la Paris Fashion Week ed eccola in tutta la sua allure rocch ed elegante. Bianca Balti, pelle total black per la PFW Un look intrigante e rock quello di Bianca Balti per le strade di Parigi, la modella di Lodi sfila per la capitale francese con un allure grintosissima, data da uno outfit total black realizzato quasi interamente con stoffa in pelle Lo street look è composto da una giacca nera, con le maniche piuttosto attillate e aperta sul davanti, anche se la tinta cromatica non cambia visto che, sotto, indossa una maglietta dello stesso colore Per quanto riguarda i pantaloni, pelle nera anche per i leggings super skinny, che si arrotolano leggermente sulle scarpi da ginnastica, anche se total black Il beauty look? È molto semplice, con un'acconciatura raccolta e i capelli tirati indietro con decisi colpi di spazzola Make-up del tutto nude se non assente, ma non servono tante tracce di gloss, e gli eli nero terra sul viso divino di Bianca Balti La sua bellezza eterea è innatamente meravigliosa e luminos, non per niente lei, con la sua eleganza e il suo stile, è una delle pochissime supermodelle del bel paese a essersi imposta a livello internazionale sulle passerelle di tutto il mondo Inoltre, la sua classe non è acqua, e lo ha dimostrato in un'occasione recente quando, al pari di tantissime colleghe non ancora affermate nella moda che hanno affollato New York per i provini, si è sentita dire no da Victoria's Secret La reazione? Elegante e ironica, da Vera Lady. La stupenda 33enne, dunque, non sfilerà al Winter Show di dicembre, come sperava di fare a 12 anni di distanza dalla sua prima esperienza per la nota Maison di moda Un angelo mancato? Assolutamente no, anzi, Bianca ha dimostrato tutto il suo charme a Venezia 74. Lì, le ali non erano fatte di candide piume, ma realizzate dall'ampio kimono del suo vestito griffato OVS, che si librava nell'aria sul red carpet Bianca Balti è sexy e chic, come lei nessuna mai Non solo bellezza, eleganza e stile glamour per Bianca Balti, ma anche scatti super sexy, è quanto è successo durante uno degli ultimi shooting fotografici, quando la modella ha posato con stoffe cangianti che lasciavano scoperto il décolleté La pose della modella? La mamma di Martina e Mia è seduta in maniera aggraziata su una sedia vintage, su un set piuttosto elegante, da altri tempi Bianca indossa un tagliere dalle sfumature del lilla, del verde, e dell'amaranto, ma ecco il particolare hot, la giacca è completamente aperta sul davanti e parte del nobile décolleté è lasciato nudo e scoperto agli occhi dell'obiettivo La sua sensualità, del resto, è proverbiale e perfettamente in luce in ogni scatto, dal più chic al più sensuale, recentemente, infatti, i fan hanno particolarmente apprezzato la sua posa in The Shabillet, dove la principale protagonista della foto è la lingerie di pizzo nero griffata OVS La sua sensualità, del resto, è vero